Bentornati sul mio canale amici! Oggi siamo qui per parlare di un argomento spinoso e sottovalutato, ovvero le gabbie di testo su Illustrator. Tutti quanti sappiamo utilizzare Illustrator un pochino, chi più chi meno, magari alcuni di voi realizzano le più sopraffine illustrazioni, io qualcosa riesco a fare ovviamente, anche qualcosa di carino, però non sono un illustratore top di gamma, infatti non è quello su cui punto, preferisco dedicarmi a cose che mi riescono meglio come fotografia, video e piani editoriali social, sono cose che mi vengono meglio, con cui ho più familiarità, però ci sono molte cose su Illustrator che riesco ad utilizzare abbastanza bene. E oggi andiamo a scoprire una cosa che io ho sempre dato per scontata, tant'è che molte volte l'ho data per scontata nel vero senso della parola, nel senso che l'ho proprio schippata io stesso mi sono proprio detto questa cosa la facciamo come viene perché tanto non cambia niente. Invece ragionandoci, perché poi di tanto in tanto ci si sofferma a riflettere su quello che è il proprio flusso di lavoro, quindi ragionandoci ogni tanto si torna indietro e ci si dice aspetta un momento, io qui non sto facendo tutto nel modo migliore possibile, ci si pensa un attimo e ci si dice sì, questa cosa può essere migliorata e può essere migliorata in questo modo. Andiamo a vedere la differenza tra questi due tipi di gabbie di testo su Illustrator, aspettate fino alla fine del video perché quando avrete scoperto quello che io già so mi ringrazierete. Perfetto eccoci qui all'interno di Illustrator, partiamo subito andiamo a selezionare il nostro strumento testo e andiamo a fare un singolo click all'interno del documento vuoto, vediamo che immediatamente viene creato del testo, andiamo a capire con che tipo di testo abbiamo a che fare, se io provo a ridimensionare questo testo mi rendo subito conto che sto ridimensionando l'intero testo e lo sto anzi deformando per cui devo andare a tenere premuto shift per bloccare le proporzioni. In questo caso abbiamo a che fare con del testo assolutamente libero, nel senso che non esiste un limite alla quantità di testo che io posso inserire, non ci sarà mai una capo e il mio testo proseguirà sempre fino alla fine del documento. Questo può essere molto vantaggioso nel momento in cui io voglio gestire liberamente il testo su una, due, tre, quattro righe oppure se voglio realizzare un logo o un lettering. Ovviamente non è il metodo migliore per andare a lavorare se sto gestendo un lungo paragrafo, vi immaginate quanto sarebbe difficoltoso dover andare a dare la capo a ogni singola riga di un paragrafo. Per questo andiamo a vedere la seconda tipologia di gabbia di testo. Adesso io prendo nuovamente lo strumento testo ma invece di andare a cliccare e basta andrò a cliccare e trascinare e creerò un riquadro. Al momento in cui io lascerò andare il riquadro verrà riempito automaticamente con un testo segna posto, un altro lorem ipsum. Andiamo a vedere come si comporta questa nuova gabbia di testo. Nel momento in cui io provo a ridimensionarla vedete che non è la dimensione del testo che cambia ma è la sua posizione all'interno della gabbia stessa per cui se io vado a creare una colonna stretta il testo si distribuirà lungo tutta la colonna. Se invece vado ad allargarla in larghezza vedete che il testo si posiziona per riempirla tutta in larghezza. Nel momento in cui la mia gabbia diventa troppo stretta per contenere tutto il testo questo riquadro diventa rosso. A questo punto io posso cliccare e andare a posizionarmi di fianco e vedete che viene creata una nuova finestra di testo attraverso cui il mio testo può proseguire all'interno del nostro documento. Vediamo che c'è di nuovo l'icona rossa per cui io posso andare a creare una nuova finestra di testo e così via fino a quando il mio testo non è completamente rivelato. Come possiamo vedere da questi ponti blu mi sta segnalando che il testo è linkato per cui quello che succede dentro questa finestra avrà effetto anche su quello che succede sui testi di queste due finestre. Vi faccio l'esempio più banale del mondo. Se io vado ad allargare questa colonna vedete che il testo scorre fino a rientrare per intero all'interno della prima colonna. Viceversa se io vado a rimpicciolire questa colonna il testo comincia a scorrere andando a riempire le altre due. Questo è il metodo di lavoro migliore se si vogliono realizzare dei paragrafi. Mentre il primo è il metodo consigliato se si vuole realizzare un titolo di paragrafo oppure se si vuole andare a lavorare in maniera più incisiva sui singoli font. Ovviamente il primo metodo è anche il più indicato per la cartellonistica cosa di cui io mi occupo prevalentemente. Per questo motivo utilizzo quasi sempre la prima gabbia di testo. Nel momento in cui io devo andare a posizionare delle grosse porzioni di testo su un cartellone preferisco gestirle in questo modo e poter scrivere a mio piacimento ed essere io stesso a dare la capo dove necessario piuttosto che avere una gabbia che mi vincoli poi permanentemente. Ovviamente non esiste un modo giusto o sbagliato di utilizzare queste due gabbie di testo. Io mi limito semplicemente a segnalarvi che per i paragrafi è molto comodo avere una gabbia che costringa il testo al suo interno mentre per altri tipi di lavorazione è molto più comodo avere un testo completamente libero. Se questi due metodi di generare testi all'interno di Illustrator trovano applicazioni diverse all'interno del vostro flusso di lavoro vi invito a lasciarmelo sapere in un commento qui sotto. Bene amici se avete resistito fin qui io vi devo dare il vostro premio ovvero cliccate iscriviti a questo canale così non vi perderete i prossimi aggiornamenti e fidatevi è un gran premio perché se oggi avete imparato qualcosa potete apprendere ancora di più seguendo tutti i video di questa serie su Illustrator o su tutti gli altri argomenti che vado di volta in volta a trattare. Vi ricordo che porto sovente argomenti inerenti alla mia professione quindi la maggior parte delle volte vi porterò qualche esperienza da uno dei miei shooting fotografici da un set video oppure da sessioni intensive di post produzione durante le quali ho diciamo risolto in maniera brillante qualche incombenza che mi sono trovato a dover affrontare. Questo è utile perché è un sentiero che io ho già tracciato seguendo altri giganti che sono venuti prima di me perché io non ho inventato quasi niente di tutto quello che vi dico però ho condensato. Ogni volta che faccio un video ci metto dentro qualcosa che ho imparato da qualcun altro, qualcosa che viene dalla mia esperienza e poi alla fine vi faccio sempre una domanda vi dico voi come lo fareste così se mi scrivete qualcosa nei commenti ho addirittura imparato qualcosa anch'io. Lasciate anche un like a questo video che voglio iniziare il 2022 con il piede giusto dai su forza! A questo punto non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video e buona luce a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!